Sono stati oltre 700 gli studenti del quarto e quinto anno degli istituti superiori che nella mattinata di venerdì 3 marzo hanno invaso l'Università di Camerino in occasione di porte aperte in Unicam. Il consueto appuntamento con l'iniziativa di orientamento alla scelta universitaria provenienti da tutte le province delle Marche ma anche da altre regioni quali l'Umbria, l'Emilia Romagna, il Lazio e la Puglia, i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti, da amici e familiari sono venuti a conoscere da vicino l'Università di Camerino. Una bellissima giornata oggi, l'opportunità ovviamente per l'Università di Camerino di far conoscere alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi l'offerta formativa dell'Università di Camerino, i tanti servizi che abbiamo messo a loro disposizione, le opportunità anche lavorative. Quando ci confrontiamo con loro e ci chiedono, bene io ho scelto un corso di laurea, che cosa sarò domani una volta ottenuta la laurea in questa disciplina? Vogliamo stare con loro, spiegare a loro come si svolgerà questa finestra della vita così importante, l'Università e ovviamente le opportunità che avranno. Scegliere Unicam perché è una realtà che è sempre attenta allo studente e ai suoi fabbisogni, quindi in cui lo studente è una persona da valorizzare, da valorizzare sia nella formazione pertinente del corso di laurea scelto, ma anche dei competenze trasversali e in missione del mondo del lavoro. Quindi scegliere Unicam perché Unicam costruisce con lo studente il futuro dello studente. Nel corso della manifestazione i ragazzi hanno potuto visitare le postazioni allestite dalle cinque scuole di Ateneo, architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, scienze e tecnologie. Nonché gli spazi dei servizi agli studenti dove i docenti, ricercatori, professionisti, studenti universitari e personale Unicam sono stati a disposizione dei partecipanti per ogni approfondimento ed informazione.